Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi vi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Edifier Edizioni Firenze dal titolo Il più grande palinsesto dell'alto medioevo. Il restauro dei dipinti murali di Santa Maria Antiqua al Foro Romano dal 1900 al 1960 e oltre. Di Paola Pogliani che abbiamo il grande piacere di avere nostra gradita ospite alla quale io lascio subito la parola perché ci racconti di questi restauri. Prego professoressa a lei. Grazie, grazie molto per questo invito e grazie a Maurizio e anche a Italia Medievale per per così aver colto il lavoro che è stato fatto e per offrire questa occasione anche di divulgazione che è certamente molto importante soprattutto per i temi che riguardano la pittura medievale. Il volume pubblicato appunto da Edifier raccoglie le ricerche che ho condotto nell'arco di una decina d'anni lavorando all'interno del cantiere di conoscenza, conservazione e valorizzazione della chiesa di Santa Maria Antiqua e soprattutto dell'apparato pittorico di Santa Maria Antiqua. L'occasione è stata importante perché ha consentito di mettere a una metodologia di lavoro che parte dall'analisi autoptica dei dipinti alla raccolta della documentazione ed archivio e anche a una ricontestualizzazione della storia conservativa dei dipinti nel momento in cui si procedeva anche con un nuovo intervento di restauro. Perché Santa Maria Antiqua? Santa Maria Santa Maria Antiqua è certamente un caso paradigmatico perché è un monumento estremamente complesso per la presenza di una sequenza importante di strati pittorici. Oggi se ne contano fino a 20 fasi pittoriche che si susseguono una sull'altra nelle famose pareti palinsesto che si trovano soprattutto nel presbiterio ma anche dislocate in altre aree del monumento dall'interno della chiesa fino all'atrio. È quindi un monumento complesso, un monumento che raccoglie in modo molto significativo la storia della cultura figurativa dell'alto medioevo che si dipana tra Roma e Bisanzio in un arco cronologico importante ma è anche un monumento che è esemplare proprio per la sua vicenda conservativa perché il restauro di Santa Maria Antiqua che inizia nel 1900 diventa possiamo dire un modello di riferimento proprio per gli interventi che si conducono sulla pittura medievale al momento proprio del maggiore anche più florido della scoperta della riscoperta del medioevo proprio nei primi decenni del novecento. Santa Maria Antiqua viene scoperta nel 1900, sino ad allora non si conoscevano i dipinti, dipinti erano sotterrati, si hanno solo notizie nel corso all'inizio del settecento di un ritrovamento sporadico dei dipinti che vengono nuovamente però sotterrati perché allora non si avevano le capacità e le competenze per riportare alla luce l'intero monumento. La scoperta è un momento fondamentale e avviene grazie a Giacomo Boni che individua il luogo, che sostiene l'intervento di scavo e anche di distruzione della chiesa di Santa Maria Liberatrice, della chiesa barocca che si trovava proprio sopra il cumulo di terra che aveva interrato il monumento alto medievale. Perché è importante questo momento? Perché è un momento che segna la storia conservativa della veste pittorica di Santa Maria Antiqua. Giacomo Boni adotta una metodologia che possiamo così abbinare, associare al restauro archeologico. Il contesto, il rudere, il dipinto murale connesso alla parete, sono un punto cardine dell'intervento di Giacomo Boni e sono l'elemento che consentirà sempre a Santa Maria Antiqua di conservare i dipinti nel contesto, in tutta la storia conservativa che nel libro viene analizzata fino agli anni Sessanta con poi una, diciamo, una coda sull'attualità. Perché è importante? Perché Giacomo Boni inizia subito un processo di documentazione dei dipinti murali facendo realizzare delle copie con diverse metodologie, quindi dei disegni uno a uno, dei veri e propri riproduzioni in scala reale, a fil di ferro ma anche colorati, perché proprio il colore si stava sbiadendo. I dipinti murali, liberati dalla terra, iniziavano a sbiancare per effetto dei sali che iniziavano a migrare sulla superficie della pellicola pittorica e quindi a sbiancare le superfici. E quindi si pone subito come problema la necessità di documentare in fotografia ma anche graficamente tutti i dipinti murali e si pone subito il problema di conservare questi dipinti in situ e quindi adesi alle pareti, adesi al contesto per cui erano stati creati. Dalle immagini, dalle fotografie storiche che si trovano negli archivi delle soprintendenze è possibile proprio vedere che quando ancora si sta togliendo la terra per completare lo scavo e liberare i dipinti, già si interviene fermando ad esempio i bordi degli intonaci con delle stuccature in cemento, ma anche poi cercando di liberare la superficie pittorica dalla formazione dei sali ma anche dalla formazione di patine biologiche. Il lavoro di Boni è fondamentale perché è un lavoro che porta non solo alla conservazione in sito ma una conservazione che tiene conto in modo molto forte, molto significativo dell'autenticità della materia e dell'immagine. Perché è quello che avviene subito fra il 1900 e il 1902 è un intervento prettamente conservativo. Una commissione ministeriale seguirà i lavori e apprezzerà la metodologia messa a punto da Giacomo Boni che consiste anche nell'aver cura della sterilizzazione, così viene chiamata nei documenti dei dipinti e quindi l'eliminazione di tutti quei fenomeni di degrado che si svilupparono a seguito del contatto dei dipinti con l'aria e con l'ambiente circostante. La documentazione, come abbiamo già detto, è la conservazione in situ cercando di consolidare gli intonaci con materiali che allora erano considerati innovativi. Il cemento per stuccare i bordi delle lacune e il grappe di rame per mantenere saldo il rapporto tra gli strati preparatori del dipinto e le murature. Materiali che certamente oggi non si usano più nel nel restauro ma che allora all'inizio del novecento erano certamente innovativi. Il colore è uno degli elementi che rimane una costante nella pianificazione degli interventi, di questi primissimi interventi perché il colore è ciò che colpisce, questo medioevo denso di colore è un colore vivo, un colore che non ci si aspettava ed è un colore però fragile, è un colore che sbiadisce, è un colore che perde di vivacità, di saturazione. Allora per questo iniziano degli interventi sulla superficie ma sono interventi che sono volti proprio a riqualificare e a riportare, tenere vivo il colore e la sua saturazione e si procede con la stesura ad esempio di cere, una cera d'api microcristallina che serve proprio per rendere più stabile la superficie pittorica e mantenere vivo il tono cromatico, utilizzando metodologie che erano già state adottate ad esempio a Pompei e quindi sempre in un ambito che è quello del restauro in ambiente archeologico piuttosto che in ambiente monumentale o ciò che si stava facendo invece sui dipinti murali più tardi. L'aver trattato i dipinti di Santa Maria Antigua come un reperto archeologico che quindi viene conservato nel contesto e di cui viene valorizzata l'autenticità non solo dell'immagine ma anche della materia è l'elemento che consentirà di guidare anche in momenti successivi perché sempre a causa dello stato di conservazione dobbiamo immaginarci non la Santa Maria Antigua di oggi ma un monumento che è privo di coperture e che se vogliamo ha anche un modere complesso all'interno del foro romano, alle pendici del palatino e che quindi è un monumento che deve essere protetto. I dipinti vengono coperti in modo provvisionale con delle tettoie, con delle stuoie che li riparano anche non solo dalle intemperie ma anche dalla luce solare che influisce certamente sul processo conservativo dei dipinti esposti all'aperto e quindi si tenta fino al primo decennio del novecento di conservare il più possibile in sito anche quando con l'intervento di Tito Venturini Papari, un celebre restauratore che ha una importante anche conoscenza di dipinti murali antichi e medievali e con Venturini Papari si inizia una prima campagna di distacco dei dipinti murali ma un distacco che è volto a rinnovare il supporto delle pitture per ricollocarli in situ e quindi il legame con il contesto continua ancora fino a questi anni quando si interviene pur staccando alcuni brani pittorici ma per rinnovare il supporto e garantirne la conservazione in situ. Sempre agli anni di Tito Venturini Papari sono altri interventi di restauro come per esempio nella cappella di Teodoto interviene certamente sempre per cercare di consolidare gli intonaci dipinti e per cercare di rinvigorire il colore utilizzando questa volta sempre il cemento e le grappe di rame per consolidare gli intonaci al supporto murario ma non più la cera un altro materiale ravvivante che viene definito una tempera nei documenti ma che possiamo supporre fosse contenesse anche della gomma lacca. Questo perché lo dico? Perché nel piano di ricerche integrate che abbiamo svolto a Santa Maria Antiqua l'altro elemento importante che ci ha consentito anche di chiarire meglio quali fossero i materiali utilizzati sono state le indagini scientifiche che abbiamo svolto insieme ai laboratori di diagnostica dell'Università della Tuscia e quindi abbiamo recuperato le tracce dei materiali utilizzati da Giacomo Boni, da Venturini Papari e abbiamo potuto analizzarli per chiarire quale fosse la composizione di questi materiali e aggiungere anche degli elementi importanti a una filologia dei materiali di restauro utilizzati proprio nei primi decenni del novecento. Questa è la prima fase di interventi e quindi la fase di interventi che vede il monumento accogliere squadre di restauratori che guidati da Giacomo Boni intervengono per mantenere salda la conservazione delle pitture nel contesto. parallelamente iniziano a svilupparsi anche gli studi che porteranno a puntare l'attenzione sulla complessità dei palinsesti pittorici e sulla necessità di considerare questo monumento nel suo insieme. un monumento che però privo della sua veste pittorica avrebbe meno senso, sarebbe meno connotato all'interno proprio della storia della cultura figurativa bizantina a Roma. allora si avvia anche una fase di progettazione per le coperture e per proteggere in modo più stabile e sicuro i dipinti all'interno del monumento. Certamente gli anni che si avvicinano alla Seconda Guerra Mondiale sono anni che porteranno a interrompere il processo di riflessione sul monumento e quindi dalla documentazione d'archivio noi percepiamo come il continuo degrado di Santa Maria Antigua venga messo in evidenza e portato all'attenzione ma che solo negli anni 30 vengono alzate delle voci per cercare di intervenire nuovamente in una situazione di continuo degrado ma il monumento rimane così diciamo un po' marginale e abbandonato al suo destino fino a quando con la Seconda Guerra Mondiale non si iniziano a porre dei sistemi di protezione antiaerea che salveranno certamente il monumento ma che allo stesso tempo creeranno all'interno del monumento un microclima particolare che porterà poi nella Seconda Guerra Mondiale a mettere in evidenza ulteriori danni ai dipinti ai dipinti murali su cui si interverrà con una nuova campagna di restauro che questa volta è condotta dall'Istituto Centrale del Restauro l'Istituto Centrale del Restauro era già stato chiamato al momento della sua Costituzione dopo il 39 per prendersi cura dei dipinti di Santa Maria Antiqua ma in realtà gli interventi avvengono solo dopo la Seconda Guerra Mondiale ma già subito nel 1945 quando una volta tolte le protezioni antiaeree si mette in evidenza nuovamente un cattivo stato di conservazione dei dipinti questo perché? Perché i dipinti si trovano comunque addossati a pareti che subiscono l'umidità di risalita del luogo in cui si trovano il problema dell'umidità è un problema che troviamo molto spesso in queste aree ed è un problema molto complesso da risolvere in via definitiva l'Istituto Centrale del Restauro in un momento storico particolare sostiene che lo stacco dei dipinti sia l'unica soluzione possibile per salvare le pitture ed è nel novero delle operazioni di restauro che in Italia si svolgevano proprio a seguito anche dei bombardamenti a partire dal Camposanto di Pisa ma erano anche le esperienze che lo stesso istituto stava conducendo nella Villa di Livia sul Palatino lo stacco era la soluzione più idonea proprio per tutelare, salvaguardare e proteggere i dipinti che si trovavano in ambienti particolarmente inadeguati per via dell'umidità che risaliva dalle pareti allora si avvia uno stacco nella Cappella di Teodoto di due dipinti significativi, particolarmente significativi si tratta del pannello con la Vergine, il Bambino e i Santi e del pannello con la Crocifissione entrambi questi pannelli vengono staccati con finalità però che sono diverse questo è uno degli elementi interessanti delle vicende conservative di questi anni si adottava la tecnica del distacco e parallelamente in istituto si studiavano proprio i nuovi supporti per collocare dipinti staccati e allora Santa Maria Antigua diventa un vero e proprio laboratorio di ricerca un laboratorio in cui si mette a punto anche si perfezionano quelle pagine della teoria del restauro che Cesare Brandi diede alle stampe nel 1963 perché si riflette sul rapporto fra materia aspetto e materia struttura si riflette sulle caratteristiche tecniche dei supporti dei dipinti che vengono staccati e sul rapporto del dipinto staccato con il suo contesto di provenienza sono tutti elementi che poi trovano un riscontro nella teoria del restauro e che Cesare Brandi mette a fuoco insieme ai validi collaboratori dell'istituto centrale del restauro in particolare insieme a Marco Carità che conduce gli studi e le ricerche anche proprio per i supporti nuovi per i dipinti staccati da Santa Maria Antigua il primo pannello staccato, quello con la Vergine e il bambino, i donatori e i santi è un pannello di grandi dimensioni che viene staccato e ricollocato su tela la tela è agganciata ad un telaio innovativo con tiranti ed elementi che consentono al dipinto di muoversi in base ai cambiamenti dinamici del supporto il dipinto però viene tolto dalla chiesa di Santa Maria Antigua e viene portato nel Museo Forense e questo quindi è un primo elemento di decontestualizzazione della pittura murale da Santa Maria Antigua ed è un momento molto forte perché sinora anche i dipinti staccati erano stati tutti ricollocati in situ e avviene la prima delocalizzazione il secondo pannello invece con la crocifissione sempre nella chiesa, nella cappella di Teodoto viene trasferito su un supporto composto da su un supporto in ferro e viene ricollocato nella cappella quindi a distanza di pochi anni tra il 1947 e il 1949 appunto la tecnica dei supporti si evolve e consente di conservare in situ i dipinti murali quindi è per questo che Santa Maria Antigua è un laboratorio di ricerca e di sperimentazione che ha come base quella di voler cercare di salvare nel contesto anche quando negli anni che seguono la seconda guerra mondiale normalmente si stacca per decontestualizzare si stacca per salvare per musealizzare altrove ma è proprio la forza del monumento la complessità del monumento la presenza di questo straordinario palinsesto pittorico che continua ad essere il filo rosso e l'elemento che ci porta ancora oggi ad avere in situ tutta la decorazione pittorica che è stata recuperata durante lo scavo del 1900 e questo lo dico perché durante l'ultimo restauro che si è concluso nel 1915 anche i dipinti staccati e decontestualizzati come il pannello appunto della cappella di Teodoto ma anche la figura iconica di Santa Barbara che sempre l'istituto centrale del restauro aveva staccato e non ricollocato in situ bene con l'ultimo restauro tutti i pannelli staccati sono stati ricollocati in situ attraverso una nuova tecnologia che consente di utilizzare dei nuovi supporti adeguati all'ambiente di Santa Maria Antiqua e alle grandi capacità tecniche dei restauratori che sono riusciti a riproporre in situ i dipinti murali quasi mimetizzando la loro storia conservativa e quindi il fatto che fossero stati staccati e decontestualizzati e su questo aspetto vorrei porre un'ultima riflessione cioè l'ultimo restauro se la storia conservativa che ho raccontato nel libro dal 1900 al 1960 rappresenta grazie all'intuizione di Boni il filo conduttore per non solo riscoprire il Medioevo conservarlo in situ e anche valorizzarlo attraverso processi di conoscenza e documentazione l'ultima campagna di restauro ha compiuto un'altra operazione cioè quella di rendere chiaro il sistema della complessità dei palinsesti pittorici attraverso non solo un importante intervento conservativo che porterà a mantenere in situ tutte le superfici pittoriche e non della chiesa perché è stato condotto un intervento di restauro a 360 gradi che comprende tutte le superfici del monumento ma l'intervento ha consentito proprio di ragionare sulla presentazione estetica dei dipinti e oggi grazie alle soluzioni che sono state adottate e che consentono hanno consentito di alleggerire la presenza dei cordoli di cemento di riqualificare ogni elemento originale del dipinto oggi noi leggiamo e possiamo renderci conto con chiarezza della qualità pittorica dei dipinti murali e anche della complessità della successione stratigrafica questo perché uno degli elementi che ha caratterizzato fin da subito gli interventi già nel 1900 è stato quello di scegliere di non reintegrare l'immagine l'intervento di Giacomo Boni è stato un intervento conservativo è un intervento che non ha portato a ricostruzioni reintegrazioni dell'immagine e questo è un altro dei fili conduttori che ha portato ancora oggi ad avere sulle pareti di Santa Maria Antigua ciò che di originale è sopravvissuto senza integrazioni e senza aggiunte di elementi che avrebbero così reso l'immagine non più quella autentica originale dell'alto medioevo quando Venturini Papa riaggiunge delle tinte accordate per colmare delle lacune queste appaiono in primo piano rispetto al colore più antico e quindi nell'ultimo restauro sono state eliminate o abbassate e lo stesso vale per quelle integrazioni che anche negli anni Ottanta erano state fatte dagli interventi di restauro precedenti la rilettura odierna è quella di voler valorizzare ogni singola scaglia di colore che è sulle pareti di Santa Maria Antigua e questo è riuscito bene quindi l'impostazione dell'intervento di restauro da Giacomo Boni ad oggi è quella appunto volta a conservare i dipinti nel contesto restituire autenticità alla materia e all'immagine Santa Maria Antigua è un caso paradigmatico ed esemplare per la sua vicenda conservativa anche perché come abbiamo visto consente di ripercorrere delle tappe salienti anche della storia critica della storia della storia critica del restauro attraverso appunto le tappe che vedono coinvolti Boni, Venturini, Papari e poi l'istituto centrale del restauro Bisogna andarla a visitare assolutamente no? Assolutamente sì bisogna andarla a visitare perché è un monumento particolarmente significativo e denso di elementi importanti per la storia di Roma e non solo e quindi direi che andarla a visitare magari avendo acquistato il libro rappresenta un vantaggio di conoscenza può essere utile per non arrivare appunto per arrivare con qualche idea sulla complessità del monumento e della decorazione pittorica certo e quindi a questo punto io non faccio altro che ricordare il titolo che è il più grande palinsesto dell'alto medioevo pubblicato da pochissimo da Edifire Edizioni Firenze di Paola Pagliani che abbiamo avuto il grande piacere di ascoltare e di avere con noi e che io ringrazio tantissimo per questa interessante videopresentazione grazie professoressa grazie grazie a voi e a presto ci vediamo Santa Maria Antiqua senz'altro grazie a voi grazie a voi grazie a voi